No, no, non spantano! Questo che ti faccio non si abbastanza perché i 23 campionati panamericani di karate stanno a chi non so nel 28, 29 e 30 di mei 2009 nel WTC Lo team per l'eliminatorio ha fatto 10 ore di menta 35 ore di tardi e la tua notte finisator ti è finale Noi del lancere l'elianza karate do Bond Quiero sau se karate Bond Bauti auspicio di Panamerican Karate Federation da invitar vosso Biwa Karate Panamericano 2009 Yeah! 3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2, 1